400 ragazze e ragazze giunti a Livorno da tutta la Toscana hanno partecipato all'evento conclusivo del progetto Oriente il tuo futuro, un percorso durato tre anni che superando le difficoltà collegate alla pandemia ha coinvolto 25.000 studenti per dar loro la possibilità di scegliere in modo consapevole il percorso post diploma universitario di alta formazione in una prospettiva strettamente connessa col mondo del lavoro e col tessuto economico toscano e informandoli sui benefici garantiti dall'azienda regionale per il diritto allo studio come borse di studio, posti letto, servizio mensa per gli studenti che appartengono a famiglie a basso reddito. L'obiettivo è quello di garantire un diritto sancito e garantito la nostra costruzione come appunto il diritto allo studio a tutte e a tutti infatti in Toscana riusciamo a coprire il 100% dei richiedenti di chi ha i requisiti appunto per accedere a questi servizi a questi benefici e vogliamo assolutamente potenziare e continuare il nostro impegno su questa strada perché le politiche per il diritto allo studio sono da sempre un pilastro e aggiungo un orgoglio di regione toscana. Oriente al tuo futuro è stato inserito nell'ambito di Giovani Sì, il progetto della regione per l'autonomia dei giovani ed è stato realizzato con le risorse del POR FSE insieme alla Università di Firenze, di Pisa e di Siena, l'Università per stranieri di Siena e Forium, società che opera in Toscana nel campo della formazione. Noi dobbiamo sempre di più far conoscere le opportunità che la regione toscana offre alle nuove generazioni. Il problema che oggi viviamo è un mancato orientamento perché i giovani non sanno quello che è possibile fare, le opportunità che ci sono di sostegno. Quindi questa iniziativa è semplicemente un seme che è stato ben seminato. Noi dobbiamo sempre di più promuovere occasioni in cui la regione giovani sì sta tra i suoi giovani e fa conoscere le opportunità che ha. In tre anni Oriente il tuo futuro ha realizzato 1200 percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio regionale, iniziative rivolte ai formatori sull'orientamento e sui profili di alta formazione più richiesti, ricerche sui fabbisogni professionali nelle aziende toscane. Anche durante l'evento conclusivo a Livorno gli studenti hanno partecipato a laboratori di orientamento tenuti da rappresentanti di imprese e società, mentre agli insegnanti è stata riservata una sezione di formazione organizzata dalle università. È stato un percorso molto emozionante anche per noi e per me perché in qualche modo è un progetto pilota e ha coinvolto un numero significativo di scuole, quasi il 50% di tutte le scuole toscane e in questi anni 1200 classi e 25.000 studenti. Quindi si tratta di numeri molto importanti, ma oltre all'aspetto quantitativo quello che ci preme è l'aspetto qualitativo. I risultati diciamo dei questionari di gradimento, dell'apprezzamento delle scuole e degli studenti sono stati molto positivi e questa cosa insomma ci ha rincuorato.